C'è grande fermento nelle case dei terramani e nei ristoranti per la preparazione delle virtù, piatto tipico del primo maggio a Teramo. Come vedete gli ingredienti, quelli più importanti, sono in lavorazione proprio oggi perché la virtù per essere fatta bene va lavorata all'ultimo momento. È una grande maratona che viene fatta rigorosamente il giorno prima, secondo la tradizione delle nostre massaie. E naturalmente è un connubio di tanti sapori da quelli selvatici della nostra campagna, quindi con le erbette aromatiche ma le erbette spontanee anche dei nostri campi, con l'aggiunta di quelle che erano le erbe, le verdure degli orti urbani che si usavano nel nostro centro cittadino. Quindi la lavorazione deve essere realizzata in un unicum, una grande maratona che parte per noi il giorno prima e si conclude domani mattina quando assembleremo tutte le verdure che abbiamo lavorato in maniera tale da comporre poi quello che è il piatto finale che serviremo ai terramani. Capitolo pasta. Che pasta ci va dentro le verdure? Allora, secondo la ricetta di cui io mi faccio portavoce, che è quella della famiglia Pompa, la ricetta storica che nella ristorazione va avanti da più di 50 anni, è una ricetta del 1916 che ancora continuiamo a fare con la stessa modalità con cui la si faceva tanti anni fa, così come Elio Pompa ci ha insegnato. Per noi la pasta che mettiamo all'interno delle virtù è semplicemente una pasta all'uovo verde e gialla e in più utilizziamo, usiamo mettere della pasta secca mista. Paolo Pompa porta avanti una tradizione culinaria di famiglia. Il papà è stato uno dei maghi delle virtù terramane? Beh sì, il papà è stato colui che ha portato questo piatto da casa al ristorante, diciamo, quindi l'ho reso... L'ho sdoganato. L'ho sdoganato, sì esatto. L'ho portato nei suoi ristoranti, fin dagli anni 60, è una tradizione annuale, un rito che si ripete ogni anno e immancabilmente quest'anno non potevamo non ripeterlo. Io sono tornato apposta a Terramo per fare questo evento con il mio staff, il mio staff storico, con il quale continuo a collaborare per fare alcuni eventi saltuariamente e grazie all'ospitalità del nostro amico Italo, quest'anno lo riproponiamo lì alla Clessidra. E niente, è un piatto che non può mancare il primo maggio sulla tavola di tutti i terramani, tutti quello che chiamano la buona cucina e che sono, diciamo, affezionati a questo piatto. Sì, sì, sono affezionati a questo piatto. Perché per i terramani le virtù non sono solo una tradizione o solo un piatto, è qualcosa di più intorno alle virtù. Si creano davvero degli eventi, a prescindere poi dal piatto che si mangia. Certo, è un piatto che racconta del territorio, delle tradizioni, della nostra bellissima terra, di tutto quello che ci offre sia in inverno che in primavera che in estate, quindi è un riassunto di tutto, diciamo.